Si ferma ancora la produzione allo stabilimento Fiat Power Train di Termoli, dove la direzione aziendale ha previsto una settimana di cassa integrazione, anche a dicembre, riposo forzato dal 10 al 15 per tutti i dipendenti dell'impianto, occupati nei settori dei motori e dei cambi, e si tratta di più di 2.400 addetti. Il timore, spiega Riccardo Mascolo, segretario regionale della FIM-CISL, è che questa settimana non sarà l'unica perché, aggiunto, potrebbero arrivare altri stop a causa dell'andamento del mercato dell'auto e quindi del calo delle vendite per il gruppo Fiat. Così l'attenzione dei sindacati resta alta in un periodo complesso per il settore che si lega a una crisi strutturale. Per ora non ci troviamo nella zona rossa, osservato Mascolo, ma se nel 2013 non ci saranno segnali di ripresa potremmo andare in seria difficoltà. I segnali non arrivano di certo dal nucleo industriale di Termoli, dove sono diverse le aziende in crisi e altre che ricorrono agli ammortizzatori sociali. Intanto sta per chiudere i battenti un impianto che si trova proprio al ridosso dello stabilimento metalmeccanico. A fine novembre scadrà infatti il contratto con la società che si occupava della gestione della centrale elettrica della BG Italia Power. D'agosto, quando sono scaduti e a quanto pare non sono stati rifinanziati gli incentivi CIP6, l'azienda ha infatti avviato la fase della conservazione dei macchinari. In vista dello stop all'attività e per una quindicina di dipendenti è previsto il ricollocamento in altre realtà del gruppo o altre sedi. L'impianto non è entrato a far parte del mercato libero dell'energia, ha fermato Lino Zambianchi, segretario regionale della FICTEM CGL, che avrebbe comunque richiesto un ingente investimento per ammodernare la centrale, non più competitiva. Per ora dunque, senza investimenti e interessi messi in campo da parte di altre aziende, non si conosce il destino di questa struttura.